Grazie, grazie Edoardo, mi commuovi. Allora adesso proclamerò il vincitore del premio Strega Giovani, quindi il vincitore della prima edizione del premio Strega Giovani con 93 voti su 353 espressi è Giuseppe Catozzella, autore del Non dirmi che hai paura. Vieni Giuseppe, tu capisci che per me è un onore particolare, devo dire che per me è un onore particolare per ovvi motivi, per la storia che racconti e per come la racconti.